Senza fare polemica, però intorno al settantesimo, settantaduesimo, ecco che arriva la sostituzione di Dimash, ma tu hai 90 minuti nelle gambe, nel senso ti senti nella condizione di poter concludere la partita per queste sostituzioni reiterate e come te le spieghi? No, ma tante altre volte ne ho fatti, per esempio anche a Sorrento, ne ho fatti anche a Tutucoio, ne ho fatti sempre e dopo sono scelta del mister, bisogna rispettare che lui è la prima persona che cerca di portare i più punti possibili alla squadra, alla società e bisogna rispettare la decisione del mister. Il mister ha deciso che deve uscire Dimash, deve uscire Dimash e niente, è un'altra cosa che vi dico, è una persona che ha portato tantissimi punti alla squadra con il suo modo di fare, con i suoi atteggiamenti e niente, bisogna solo fare i complimenti al mister di continuare così. In trasferta il gol manca da un po', Caserta potrebbe essere l'opportunità giusta per risbloccarsi lontano da Teron? Sì, ma guarda come ho cercato domenica in tutti i modi di fare i gol, cercherò anche a Caserta, però le cose è una partita di cartello, una partita sarà bellissima, piena di gente e sarà una bella partita per cercare di sbloccarsi e di portare i punti a casa. Il tuo amico Godirin non giocherà perché sarà squalificato, gli dedicherai un gol? Ecco, cerchiamo di fare la prestazione e portare i punti a casa, io con lui sicuramente ci sentiremo adesso durante la settimana, comunque è un'amicizia che da tanto tempo e niente, cercheremo di fare lo sgambetto alla Casertana e di portare i punti a casa. Io come tutta la squadra stiamo concentrati a finire il campionato nel miglior modo possibile e dopo ci sarà tempo di vedere queste cose qua.